Musica Ben trovati ad ora a TG Caos in via San Giuliano questa mattina a Catania sono saliti sul tetto del teatro San Giorgi i lavoratori precari del Bellini, il prestigioso ente lirico rischia come più volte denunciato dai sindacati la paralisi anche la stagione estiva è in forse il servizio di Guenda Garozzo sul tetto del teatro San Giorgi con i fischietti per attirare l'attenzione perché senza stipendio a causa dei contratti a tempo scaduti sono i lavoratori precari del teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania bloccata la circolazione viaria sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con un materasso gonfiabile con il timore che qualcuno potesse buttarsi giù sul posto anche il segretario regionale Snalv Confsa l'Antonio Santonocito che ha lanciato l'allarme per questi lavoratori ormai sull'orlo del baratro l'assessore Pappalardo ha detto in diretta che stava mandando il commissario ad acta con pieni poteri per fare delle variazioni del bilancio per assumere questi lavoratori fino alla fine dell'anno e comunque poi ha corretto un po' il tiro dicendo fino alla fine di giugno e quindi c'era una certa continuità noi chiediamo al soprintendente ormai da tempo visto che le somme che aveva chiesto per il 2019 ci sono di stabilizzare e cominciare la stabilizzazione intanto oggi ne stabilizzi quest'anno ne stabilizzi 8-10 e poi c'è il programma triennale ma per l'anno prossimo non ci sono le somme non ha importanza l'anno prossimo poi vedremo ma intanto dai il segnale che c'è la volontà di stabilizzare stai cominciando a stabilizzare e quindi si è via un processo se invece non si comincia si resta sempre in aria questi lavoratori sono stati presi in giro ormai da troppo tempo ogni tanto fanno di queste manifestazioni a spotto un po' sopra le righe ma voglio dire mi pare più che legittimo protestare E continua lo sciopero anche delle lavoratrici degli asili nido di Catania finanziati con i fondi PAC 8 le mensilità arretrate questa mattina nuovo sit-in di protesta hanno anche incontrato l'assessore ai servizi sociali l'impasse sarebbe causato da un errore nelle fatture ci spiega tutto Mario Grasso nuovo sit-in questa mattina delle lavoratrici degli asili nido PAC cioè finanziata attraverso il piano di azione e coesione di Catania lamentano pagamenti arretrati per 8 mensilità oltre la tredicesima e affermano di non poter più andare avanti sono 80 le lavoratrici impiegate dalle cooperative negli asili nido di via Retireno via Milano e via Quicella a Catania e poi degli spazi gioco di via Caduti del Lavoro via Raccuglia e Lineri sciopero ad oltranza sebbene questa mattina abbiano incontrato l'assessore ai servizi sociali Lombardo che ha confermato come il comune sia disposto a pagare le mensilità di gennaio, febbraio e marzo ma le cooperative dovranno però rivedere le fatture in quanto manifesterebbero le stesse alcuni errori la situazione è stagnante nel senso che c'è stato un incontro già venerdì scorso dove sono state stabilite insieme alla cooperativa cioè dire amministrazione comunale e cooperativa si sono incontrati e credo che abbiano riscontrato alcune anomalie che sono da correggere e quindi speriamo che nella giornata di oggi e domani queste vengano corrette dopodiché il comune si era impegnato eventualmente a fare qualche determina per vedere di pagare 2-3 mesi relativi agli asili indito io tengo però a precisare che le lavoratrici in questo momento sono creditrici di ben 8 mesi più 13esimo del 2018 eppur comprendendo il fatto che le mensilità relative al 2018 aspettano il benestare da parte dei commissari per il dissesto per ciò che attiene le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile del 2019 deve rispondere da questo punto di vista il comune io credo che le lavoratrici con il loro buon senso e lo hanno dimostrato se c'è uno sforzo da parte del comune che possa pagare almeno 3 mensilità per cercare di tirare avanti il carretto teniamo conto che moltissimi, ma fra questi lavoratrici ci sono un buono reddito alcune con vigli, altre con situazioni particolari ci si rende conto della stato di disperazione in cui versano in questo momento e probabilmente non è facile neanche andare a soluzioni ponte io mi auguro che il comune come a volte ha anche dimostrato l'assessore perché sarei scorretto se dicessi cose diverse se il comune nell'arco di pochi giorni riesce a risolvere questa matassa nel senso di pagare alla cooperativa e con demoralmente la cooperativa paga ai lavoratori 3-4 stipendi credo che si andrà prestissimo alla soluzione al momento le operatrici mantengono lo stato di agitazione e dunque di astensione dal lavoro e di questo chiediamo scusa anche ai cittadini che è un servizio che viene a mancare anche ai cittadini e quindi si è riverso sulla città restiamo a Catania sottraggono un merce destinata ai poveri denunciati dai carabinieri tre dipendenti della SMA ed un quarto complice si tratta di dipendenti del punto vendita di contrada Pantano d'Arci ritenuti responsabili di appropriazione in debita la merce era stata devoluta dalla SMA ad un'associazione di volontariato i tre dipendenti avevano caricato su un autocarro i prodotti con il preciso intento di distrarla a proprio vantaggio scaricandoli con l'aiuto del complice in un garage l'intero carico è stato recuperato dai carabinieri e consegnato all'associazione di volontariato individuata la politica per il sindaco pugliese e l'inciuccio tra Bianco e Micichè è cosa fatta critica le scelte di quest'ultimo il presidente dell'Ars dice no all'emendamento che sbloccherebbe fondi per Catania e per gli stipendi dei dipendenti comunali vediamo che il presidente dell'Ars voglia fare un accordo con Enzo Bianco sembra essere per il sindaco di Catania è una cosa conclamata sono dichiarazioni dure quelle che fa il primo cittadino nei confronti dell'ex collega di partito dopo che i legami si sono spezzati in vista delle europee con la scelta di Gianfranco Micichè di escludere candidati catanesi di Forza Italia alla competizione elettorale per il prossimo 26 maggio Salvo Pogliese non le manda a dire e tocca punti assai delicati che riguardano principalmente la situazione economico-finanziaria del capoluogo etneo lo stesso presidente dell'Ars spiega Pogliese ha dichiarato irricevibile un emendamento che avrebbe permesso il recupero del fondo di garanzia 40 milioni di euro per i comuni in dissesto una manna per gli oltre 2.500 dipendenti più altri 1.000 delle partecipate costretti a vivere nell'incertezza sugli stipendi vista la forte crisi di liquidità che l'ente di Palazzo degli Elefanti sta attraversando della norma voluta da Musumeci in aula non v'è ancora traccia alcuna all'interno dell'Assemblea regionale siciliana era stato presentato un emendamento che aveva trovato il consenso trasversale di tutti i gruppi parlamentari e voglio ringraziare il Movimento 5 Stelle il Partito Democratico oltre ovviamente a tutte le forze del centro-destra il presidente dell'Assemblea ha ritenuto opportuno non renderlo ammissibile con motivazioni che ritengo siano assolutamente eretiche rispetto alla prassi dei lavori parlamentari ne ho preso atto tutto ciò ha rappresentato un'offesa alla dignità del Parlamento non soltanto della nona città d'Italia che vive un'emergenza economica finanziaria drammatica ma evidentemente qualcuno utilizza il ruolo prestigioso di presidente il più antico Parlamento d'Europa per finalità di correnti all'interno del suo partito ovviamente il percorso non si è arenato martedì all'interno della commissione bilancio dovrebbe essere dato il voto finale al collegato alla finanziaria e quindi quell'emendamento è stato approvato all'unanimità all'interno della commissione bilancio ma la perdita di tempo di questi mesi credo che sia assolutamente imbarazzante che testimonia il modo con cui qualcuno interpreta il ruolo di presidente del Parlamento siciliano che di per sé dovrebbe essere un ruolo di alto livello istituzionale sul fronte politico l'inciucio con il predecessore di Pogliese sconfitto alle ultime elezioni amministrative sbugiardato dalla Corte dei Conti sulle responsabilità del dissesto pare abbia per il sindaco radici ben più profonde siamo orgogliosi dice il governatore della città che tanti amministratori locali e migliaia di militanti abbiano abbandonato il partito ridotto da miciche allo sbando sabato mattina si è celebrato un momento letterario di presentazione di un libro sulla storia del ventennale di Forza Italia alla presenza di Miciche alla presenza di Schifani alla presenza anche di Enzo Bianco non so a che titolo ciò si sia determinato quello che è stato detto all'interno di quel convegno credo che sia la prova provata di un percorso assolutamente eretico inciucista ribaltonista che mira a riproporre in Sicilia il patto del Nazareno 2.0 che io ritengo assolutamente eretico ecco perché sono sempre più convinto della bontà del percorso che ho intrapreso e sono assolutamente convinto che all'interno del mio ex partito di Forza Italia moltissimi la pensano come il sottoscritto voltiamo ancora a pagina incidente autonomo a riposto singolare la dinamica un'auto ha compiuto un volo ed è finita all'interno di un cappetto di calcio vicino ad una scuola alla guida c'era una donna il servizio di Francesco Larosa singolare incidente stradale nella tarda serata di ieri prima dell'eventuno nella frazione ripostesi di Caruba in via Nazario Sauro quasi all'angolo con via Cesare Battista una Ford Fiesta con alla guida una donna di 68 anni residente a San Leonardello per causa ancora in corso di accertamento è finita fuoristrada sfondandola cancellata in ferro posta al di sopra di un campetto di calcetto annesso alla scuola mediaverga la ringhiera completamente divelta non è riuscita a trattenere l'auto che è precipitata giù ribaltandosi secondo alcuni testimoni oculari subito intervenuti sul posto la donna non avrebbe riportato ferite gravi ma è stata comunque soccorso dal 118 e trasportata all'ospedale di Acideale successivamente i carabinieri hanno effettuato i rilevi dell'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi pare infatti che il campetto di calcio si è stabilmente frequentato dai ragazzi soprattutto nelle ore serali grazie all'ausilio dell'illuminazione artificiale di lì a poco pare fosse in programma una partitella e se la macchina fosse precipitata alcuni minuti più tardi l'esito dell'incidente avrebbe potuto assumere connotati assai più gravi verso le 9 meno 5 le 9 così ho sentito un portibuato sembrava una bomba sono uscito subito fuori e ho visto del fumo che saliva il fumo giustamente era creato dall'olio caldo qualcosa del genere e poi subito mi sono accorto che mancava una ringhiera mi sono affacciato e siamo scesi subito giù a dare soccorso alla signora in che condizioni era era vigile però aveva dei forti dolori nella pancia queste cose qua è stata comunque una fortuna perché questo campetto è frequentato soprattutto la sera dai ragazzi dai ragazzi che giocano tutte le sere a pallone quasi tutte le sere sono stati miracolati perché proprio le sere dovevano giocare di là alle 9 nel 9 e un quarto venivano di sicuro e sono stati miracolati perché se no finiva male sarebbe forse il caso che invece questa ringhiera ci fosse un muro come nella restante parte della strada secondo me se c'era il muro giustamente la macchina non veniva sotto perché un muro di cemento armato tiene più di una ringhiera di ferro adesso si aspetta che venga rimossa la macchina speriamo che la rimuovano solo che i vigili hanno detto i vigili del fuoco hanno detto che la gruccia l'hanno rotta però ora vediamo e poco distante a Giarra è stato scoperto un autolavaggio abusivo i carabinieri della stazione di macchia di Giarra del nucleo operativo ecologico di Catania hanno denunciato quattro persone di cui i due proprietari padre e figlio il gestore ed un operaio ritenuti responsabili della violazione delle norme ambientali inerenti agli scarichi non autorizzati la tutela delle acque dall'inquinamento l'impianto oltre ad essere sprovvisto dell'autorizzazione sversava acque reflue derivanti dal lavaggio dei veicoli direttamente sul terreno limitrofo il fondo agricolo e l'autolavaggio sono stati sottoposti a sequestro adesso ad Acicatena la delicata vicenda del buco di bilancio milionario dopo l'intervento della Corte dei Conti il Comune ha predisposto un piano di rientro che si spera vada in porto sentiamo Salvo Cutuli la Corte dei Conti certifica errori e dimenticanze burocratiche nella gestione del bilancio del Comune di Acicatena il riferimento è al biennio 2014-2016 l'amministrazione Oliveri corre ai ripari e tenta la strada della mediazione con la magistratura contabile attraverso una richiesta in cui si impegna a sterilizzare i debiti in 20 anni la forbice è larga molto larga dagli ottimistici 10 milioni di euro ai 18 di disavanzo una voragine a determinare il guasto sui conti pubblici errori tecnici sviste di cui potrebbero rispondere in solito il revisore dei conti il segretario il ragioniere generale la questione oltrepassa le competenze della Corte dei Conti e potrebbe investire la Procura della Repubblica la situazione è molto ingarbugliata e il sindaco Nello Oliveri nella qualità di assessore a bilancio sa di essere finito nelle sabbie mobili di cui neanche il commissario che ha retto le sorti del palazzo ha preso le giuste contromosse il primo cittadino è solo stamani si è presentato con i burocrati in conferenza stampa senza il sostegno morale degli esponenti della maggioranza un'assenza che non è passata inosservata la vicenda ribadiamo a radici tecniche qualche responsabilità politica sulla verifica degli atti che presentavano un avanzo di cassa rivelatosi fittizio svelato dalla Corte dei Conti e su cui l'amministrazione in carica sta cercando di correre ai ripari chiedendo un ulteriore provvedimento di ratizzazione che se non dovesse passare condurrebbe comune al fallimento contabile con rigadute pesantissime a carico dei contribuenti diciamo che in questa prima fase questa conferenza stampa che vuole essere di natura tecnica parliamo proprio di errore di natura di errore se di errore si può parlare poi chi di dovere accerterà se di errore si tratta comunque parliamo di errore di natura contabile è chiaro che la mancata sterilizzazione di 10 milioni e mezzo di euro nei bilanci 2014 15 e 16 oggi mette in cinocchio l'amministrazione perché questa sentenza ci obbliga a questo deliberato della corte dei conti ci obbliga solo a poter operare solo ed esclusivamente inerente le spese obbligatorie le spese obbligatorie per un comune come Cicatena sono stipendi e rate di mutuo essenzialmente e poi altre piccole cose questo cosa vuol dire vuol dire che molti servizi dovranno essere rivisti dovranno essere snelliti e in qualche caso anche qualcosa di eliminato man mano abbiamo 60 giorni di tempo per presentare all'attenzione della corte dei conti una nostra idea un nostro progetto di come andare a ripianare nel tempo questo debito lo stiamo presentando noi stiamo presentando un piano di rientro vendennale nella speranza che venga accolto se non dovesse essere così la corte deciderà diversamente una sterilizzazione potrebbe essere appunto avviata già con qualche anno in anticipo la sua stessa amministrazione poteva farla? no guardi se non veniva fuori da parte della corte dei conti questa fra virgolette chiamiamola anomalia nessuno poteva mai accorgersi di ciò e anche i tecnici? credo di no perché i tecnici dovevano riscontrarlo nel momento in cui è stato fatto non è stato fatto e quindi anche i bilanci a seguire 2017 e 2018 risentono parzialmente di questa mancata sterilizzazione e che noi stiamo andando a correggere perché a giorni adotteremo il rendiconto 2018 dove da lì uscirà fuori la somma totale del debito sommato a contenzioso che l'NDA certo sono numeri altissimi non c'era la maggioranza lo avete sentito è l'opposizione da Cicatena attacca quartiere Cubisia nella zona nord un quartiere densamente popolato in stato di abbandono la denuncia di un consigliere quartiere Cubisia zona residenziale densamente popolata a nord di Cicatena residenti lamentano lo stato di abbandono in cui versa l'unico spazio pubblico del comprensorio a farsi carico delle legittime stanze dei cittadini il consigliere comunale di opposizione Davide Quattrocchi che ha più volte segnalato agli amministratori interventi di pulizia e scerbatura dell'area verde dell'attivo campetto di calcio vandalizzato e invaso di spazzatura una situazione a limite del degrado su cui occorre intervenire con celerità restituendo il decoro e un minimo di sicurezza con l'approssimarsi della bella stagione infatti un eventuale incendio potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica e causare danni alle auto che sostano stabilmente negli stalli problemi anche sulle viabilità in un'atterre di collegamento con la vicina autostrada peraltro l'unica disponibile dal momento in cui via Sciarella è stata chiusa per le conseguenze del terremoto e la viabilità cittadina non ha strada alternativa adeguate in caso di calamità naturali il quartiere Cubisia è sicuramente uno dei più popolosi pur stando in centro è un quartiere fondamentale perché di passaggio per arrivare ai servizi essenziali come l'autostrada e l'ospedale però evidentemente è abbandonato la piazza etta della Cubisia del quartiere Cubisia è solo l'emblema le erbacce alte il campetto abbandonato la vecchia Bambinopoli che ormai non esiste più e rappresenta come dire un segnale che non possiamo più secondo me permetterci perché è un quartiere assolutamente importante è un quartiere popoloso è un quartiere che ha bisogno di attenzione attenzione che negli anni non ci sono stati l'assessore servizi ecologici Giovanni Pulvirente assicura che gli interventi di scelbatura e pulizia sono in corso in tutto il territorio comunale compresa la piazzetta di Cubisia il territorio è basto il territorio è servito abbiamo due unità che si occupano per la scelbatura delle aree pubbliche del comune di pertenenza del comune e la ditta F che si occupa della scelbatura dei marciapiedi e del ciglio stradale se in questo momento l'erba è un po' più alta in piazza Pricoco vuol dire che in piazza Allegra San Nicolò è stata appena scelbata dunque abbiamo la pazienza di aspettare il turno e anche piazza Pricoco in zona Cubisia sarà servita anche perché il mio quartiere dunque non voglio trascurarlo se c'è stato in queste giornate di vento un po' di accumulo di cartacce e di qualche immondizia magari abbandonata da qualche sporcaccione sul territorio provvederemo nei prossimi minuti a rimuoverla Voltiamo ancora a pagina una rete di primo soccorso nelle scuole di Catania l'iniziativa nata dopo la morte di Raffaele stroncato da un infarto lo scorso dicembre proprio mentre era in classe intanto Alcutelli studenti addestrati all'uso del defibrillatore è dedicato a Raffaele Barresi il giovane che perse la vita per arresto cardiaco durante l'orario scorastico mentre si trovava all'interno del principe Umberto di Catania il progetto Il cuore di Raffaele che oggi chiude la sua prima fase con la consegna di 22 attestati agli studenti del liceo Mario Cutelli di Catania per uso corretto del defibrillatore il cosiddetto brevetto BLSD Il programma vuole creare una rete di formazione sul primo soccorso nelle scuole per favorire l'immediato intervento in casi di emergenza sanitaria come l'arresto cardiaco ad esempio per i quali l'azione nei primi minuti è decisiva ai fini della sopravvivenza L'iniziativa è promossa dalla presidente della commissione consigliare sanità del comune di Catania Sara Pettinato e dalla dirigenza del liceo Cutelli Oggi la consegna degli attestati in presenza tra gli altri del sindaco di Catania Salvopoliese e del questore di Catania Alberto Francini Sentiamo Sara Pettinato Un progetto che oggi si conclude in questa scuola ma che tra un po' passeremo il cuore di Raffaele a un'altra scuola proprio perché è stata fatta una call da parte della della pubblica istruzione del direttore del dirigente alle altre scuole vediamo chi si è presentata io già ho altri tre quattro nominativi che hanno aderito I ragazzi di oggi se tu gli dai iniziative o comunque progetti da seguire che possono dar loro modo di manifestare il loro sentimento di amicizia sono sempre molto contenti in particolare questo progetto ha questa logica della staffetta della solidarietà che li coinvolge in maniera particolare dunque un progetto che non si chiude oggi ma che sarà ampliato nel corso del tempo come ha sottolineato anche il presidente del consiglio comunale Castiglione e che gode del contributo fattivo delle misericordie d'Italia responsabile della Frates catanese Nino Mirabella oltre che i buoni uffici dell'ASP3 Sergio Parisi assessore della giunta pogliese io che mi occupo anche di sport è obbligatorio l'uso del defibrillatore negli impianti sportivi durante le manifestazioni sportive quindi un'iniziativa davvero lodevole da chi l'ha proposta purtroppo un'iniziativa che ricorda il tragicamento dello studente morto appunto a scuola quindi un applauso davvero a tutti i quali e soprattutto sensibilizza anche un po' gli stessi studenti li sensibilizza al problema e quindi magari li stimolerà ad avere la possibilità di fare ulteriori corsi proprio per l'utilizzo del defibrillatore ma soprattutto li sensibilizza a quello che è il problema della prevenzione per quanto riguarda appunto la salute degli studenti stessi restiamo in tema parte oggi la campagna europea di prevenzione sullo scompenso cardiaco una malattia molto diffusa anche Catania aderisce parte oggi e si produrrà sino alla prossima 19 maggio la campagna europea di prevenzione dello scompenso cardiaco nell'ambito dell'iniziativa di sensibilizzazione denominata il tuo cuore è un bene prezioso ascoltalo lo scompenso cardiaco è una malattia seria particolarmente diffusa quando il cuore cioè perde la capacità di pompare il sangue in tutto il corpo in maniera adeguata alle richieste dell'organismo i primi sintomi si possono avvertire a causa di un senso di stanchezza o difficoltà di respiro soprattutto dopo uno sforzo fisico campanelli d'allarme possono essere eccessi di tosse mancanza di fiato durante la notte episodi di vertigini associati e senso di confusione a Catania e provincia sono quattro le farmacie che aderiscono alla campagna di prevenzione dello scompenso cardiaco quella di via Zacco e via Lago di Nicito nella Capologo e Tenneo oltre alla farmacia Condorelli di Mister Bianco e alla farmacia di Stefano di Biancavilla lo scompenso cardiaco è una malattia molto seria e molto diffusa che a volte viene sottovalutata dai nostri clienti perché non riescono a capire di che cosa si tratta è una malattia in cui il cuore perde la capacità di pompare sangue in maniera adeguata e quindi ci sono dei segni di affaticamento che spesso vengono sottovalutati e che noi cerchiamo di mettere in evidenza per evitare poi il rischio di malattie miocardiche e cardiovascolari molto più importanti tra cui infarto miocardico e malattie di vario tipo per questo noi cerchiamo di valutare i fattori di rischio per lo scompenso dei nostri clienti sottoponendoli ad una serie di domande e misuriamo il colesterolo la glicemia il peso perché anche l'obesità è un fattore di rischio di malattie cardiovascolari e andando a misurare tali valori e vedendo se siano nella norma o no eventualmente chiaramente li mandiamo e consigliamo di fare una visita specialistica molto più approfondita dal cardiologo di riferimento quindi la prevenzione è importante per prevenire più che mai per prevenire più che mai ipertensione malattie cardiache di vario tipo che con la prevenzione possono assolutamente essere combattute e risolte in maniera con la terapia farmacologica o con la visita del medico che indicherà la terapia farmacologica da intraprendere più corretta c'è una fascia d'età che può essere più o meno esposta allora chiaramente la fascia d'età va dai 50 anni in su soprattutto colpisce il soggetto maschile e l'obesità quindi l'aumento di peso è sicuramente uno dei primi fattori che bisogna controllare che ci devono dare un campanello d'allarme quindi è un'occasione da prendere al volo assolutamente sì siamo qui dal 6 al 19 maggio per misurare la glicemia gratuitamente il colesterolo l'assetto lipidico completo del paziente valutando sia il colesterolo l'HDL che l'LDL e per qualsiasi consiglio siamo pronti a gestire questa campagna al meglio per prevenire lo scompenso cardiaco nei nostri clienti e vanta mezzo secolo di storia e di successi l'associazione San Luigi Basket di Acireale ieri è stato festeggiato l'importante anniversario insieme agli atleti dirigenti e di docenti è presente per l'occasione anche fratello Alberto Castellani che oltre 30 anni fa fece realizzare la palestra del San Luigi sentiamo Filippo Romeo ha formato e avviato allo sport intere generazioni di giovani acesi da 50 anni l'associazione sportiva dilettantistica San Luigi Basket rappresenta un punto di riferimento per le realtà cestistiche del territorio grande festa ieri per celebrare questo importante traguardo in mattinata il raduno in piazza Duomo ad Acireale poi la messa in cattedrale e a seguire l'incontro degli atleti nel cortile dell'istituto dei fratelli delle scuole cristiane le gare la consegna delle targhe la proiezione delle foto storiche nel teatro il pranzo assieme il taglio della torta dell'anniversario e l'immancabile foto di gruppo presenti centinaia di giovani insegnanti religiosi della famiglia Lassalliana sportivi dirigenti ed ex alunni che dal 1969 ad oggi hanno fatto parte dell'ASD al San Luigi per l'occasione anche fratello Alberto Castellani che oltre 30 anni fa bolle e fece realizzare grazie alla collaborazione di tanti benefattori la grande palestra dell'istituto dove continuano ad allenarsi le giovani promesse della pallacanestro ci troviamo qui a festeggiare un avvenimento che riempie di emozioni 50 anni dalla fondazione dell'unione sportiva istituto San Luigi e a guardare lo spettacolo di questa mattina in palestra è stato veramente un grande evento la soddisfazione più grande è quella di vedere i bambini di una volta essere istruttori essere arbitri e divertirsi con i loro figli noi grandi un po' vecchiarelli siamo contenti perché evidentemente abbiamo messo dei buoni semi soprattutto se oggi senza di noi questa attività va avanti è molto importante ovviamente perché i ragazzi quando stanno in palestra non stanno altrove vivono insieme un'esperienza di vita comune vivono ben insieme riescono a coltivare un'amicizia riescono a coltivare soprattutto i valori dello sport oggi siamo qui a partecipare a questa bella festa che appunto come dire corona una ricorrenza importante che sono i 50 anni dalla nascita di questa associazione sportiva che è caratterizzata per la si caratterizza per la disciplina della pallacanestro purtroppo è una festa che abbiamo condiviso con gli attuali atleti mini atleti e le famiglie dei nostri ragazzi ricordando molti dirigenti atleti o comunque membri di questa famiglia che oggi sostanzialmente non sono stati tutti non sono potuti essere tutti presenti per varie ragioni chiedo anzi scusa anticipatamente se qualcuno non è stato non è stato invitato per questo evento e niente è una ricorrenza che serve a appunto coronare 50 anni di attività e soprattutto che possa essere come dire un auspicio per proseguire e lanciare sempre più in alto il nome dell'istituto e della pallacanestro San Luigina e nasce la ciclovia della Magna Grecia proprio da Catania parte la fase operativa sentiamo comincia ad assumere connotati maggiormente delineati la ciclovia della Magna Grecia si tratta di un percorso dedicato alla mobilità ciclistica e in particolare alla progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie con priorità per alcuni percorsi tra cui appunto quello della ciclovia della Magna Grecia che attraversa i territori della Basilicata della Calabria e della Sicilia orientale tutto nasce da uno protocollo d'intesa firmato nell'agosto del 2017 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dei Beni delle Attività Culturali del Turismo tra la Regione Calabria la Regione Basilicata e la Regione Siciliana il protocollo non ha ancora prodotto alcun effetto per cui lo stesso è stato nuovamente sottoscritto alcune settimane fa entro il 30 giugno del 2022 dovrà essere aggiudicata la gara dei lavori relativi al primo lotto funzionale individuato nel progetto di fattibilità tecnico-economica la ciclovia della Magna Grecia attraverserà le province di Messina Catania e ovviamente Siracusa oggi un incontro al Palazzo della Regione Siciliana di Catania al fine di illustrare anche agli enti territoriali interessati i programmi e le attese turistiche che si intendono perseguire con la realizzazione della ciclovia ed è presente tra gli altri il vicepresidente della Regione Calabria Francesco Russo tra l'altro catanese di origine che ha illustrato alcune delle fasi progettuali innanzitutto la promozione del patrimonio storico artistico paesaggistico oltre che ambientale di un territorio appunto quello della Magna Grecia che catalizza anno dopo anno l'attenzione di milioni di turisti e tra questi numero sempre maggiore di cicloturisti Marco Falcone assessore regionale alle infrastrutture ma sicuramente rappresenta un incremento della infrastrutturazione e in chiave turistica le ciclovie della Magna Grecia questo rapporto sinergico che ci sarà e che c'è già con la Regione Calabria che è la capofila e con la Regione Basilicata rappresenta una delle più importanti infrastrutturazioni in chiave turistica e in chiave ricettiva che la Sicilia metterà a punto nei prossimi anni valorizzeremo i territori le identità valorizzeremo i beni culturali i paesegistici e quelle di quei territori che sono conosciuti e meno conosciuti e un modo potrebbe sembrare un'iniziativa per una nicchia di turisti che vuole vedere nella bicicletta se vogliamo o in questi percorsi alternativi un momento di svago di divertimento ma io dico che sarà invece uno strumento per conoscere il territorio e quindi per apprezzarlo Con Falcone i giornalisti si sono soffermati pure sullo stato delle ferrovie sulla Catania Ragusa l'autostrada che dovrà passare dal Cipe il 13 maggio prossimo oltre che sui cantieri ancora in corso sulla Siracusa Gela Siracusa Gela è stato un altro grande appalto che ci siamo trovati bloccati e che abbiamo sbloccato abbiamo riaviato i lavori i lavori sono in progress proprio oggi abbiamo una riunione a Messina presso il Consorzio Autostrade Siciliane perché dobbiamo recuperare quei 48 milioni di euro che sono a rischio revoca da parte della Commissione Europea proprio per il ritardo di questi lavori stiamo trovando un accordo con l'impresa e addirittura anche immaginando un premio di accelerazione nel caso in cui facessi i doppi turni e riuscissimo a completare l'opera entro il marzo del 2020 che è il termine finale entro cui bisogna fare la relazione finale di esecuzione che servirebbe appunto per mettere in garanzia e per salvaguardare questi 48 milioni di euro alla Sicilia è tutto ci fermiamo qui per questa edizione di Ora Tg la prossima in diretta come sempre alle 19.45 potete seguirci anche attraverso il sito internet e di social grazie dell'attenzione adesso le previsioni del tempo arrivederci le previsioni meteo per la giornata di martedì 7 maggio 2019 cielo prevalentemente soleggiato in Sicilia i mari saranno calmi le temperature in calo nell'isola la più elevata Siracusa a 22 gradi 21 a Catania 20 nell'Agrigiantino le minime oscilleranno da 2 gradi a 13 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 Grazie a tutti.